Bene amici, appena ritirato all'Amazon Locker No, tra l'altro, non ditelo a nessuno Ma se voi cercate Locker Cecilia Potrete ritirarlo proprio qua in sede Amazon Che tra l'altro è un palazzo veramente fichissimo Ma cosa ho ritirato il nuovo Samsung M20? E perché l'ho ritirato in Amazon? Perché questo telefono lo si può comprare solamente O online su Amazon oppure sul sito di Samsung E finalmente potrebbe essere un Samsung che esce Con un rapporto qualità-prezzo che lo fa diventare subito Best Buy Senza aspettare che scenda di prezzo 229€, 4GB di RAM, 64GB di memoria utente Ma, udite udite, 5000mAh di batteria Con l'Infinity V display da 6,3 pollici Ovvero con la tacchettina E adesso io corro in ufficio Sì, ho la fortuna di essere a 100 metri dalla sede Amazon Ecco, perché sono venuto a ritirarlo qua E lo unboxo E ve lo racconto, prime impressioni Ed eccoci, guardiamo subito cosa c'è in confezione Com'è questo telefono Qua abbiamo, immagino, le solite, sì Istruzioni rapide, ovviamente in italiano E poi il carica batterie da 10W 5x2, sì, 10W Quindi carica immagini intorno alle due ore, due ore e mezza Perché 5000mAh non sono pochi E poi abbiamo qua il cavo auricolare stereo delle cuffie Non in ear ma standard Quindi per chi odia gli ear vanno bene Poi sentiremo come suonano E poi abbiamo il cavo Che, attenzione, attenzione Rispetto ai Base di gamma Che poi non è molto base di gamma Ma rispetto ai telefoni che non costano tanto Di Samsung Che di solito sono micro USB Vabbè, dai, la faccio breve È finalmente tipo C Sì, perché questo telefono Ha proprio quel tipo di connettore Tolgo subito le plastichine Che è sempre una Grandissima libidine Tolgo anche questa etichettina Che mi rovina un pochino L'estetica del posteriore Che, devo dire, è essere Bella Bella Penso sia plastica La cover posteriore Penso sì Monoscocca Ah, ma c'è un'altra plastica Allora, togliamo anche questa protezione Ok, pellicolina Perimetrale tolta Accendo il display Intanto inizio a raccontarvelo Dietro due camere E c'è la grande angolare Perché la prima camera è quella normale Da 13 megapixel La seconda proprio ultra wide Sensor di impronte digitali Ovviamente flecettina Accensione e spegnimento Volume Sopra c'è il secondo microfono Per attenuare i rumori Durante la chiamata Ma soprattutto Adesso vi faccio vedere O meglio, vediamo se è così Perché ho letto le specifiche Ma vediamo se effettivamente Ci sono due vani Per mettere due SIM E poi, sì, è effettivamente così Il terzo vano Per mettere l'espansione memoria Anche se di serie ci sono già 4 GB di RAM E 64 GB di memoria utente Sotto, come dicevo La Type-C La porta per il jack Per le cuffie E anche l'altoparlante Si è appena acceso E la novità è che Samsung introduce La tacca piccolina Per avere un display Tutto schermo Anche su un telefono Diciamo Meno di gamma Lo configuro un secondo E poi primissime impressioni Ed eccolo qua Ho iniziato l'installazione Ho iniziato a mettere Le mie applicazioni Facebook, Twitter Insomma le solite che uso Il processore è Lexino 70904 Octa-Core E devo dire che Gira abbastanza bene Guardate Non ha particolari lag Gira Anzi direi Più che velocemente Andiamo a vedere Instagram E poi Una cosa difficile Per questi telefoni Che diciamo Non costano tantissimo È girare storie Instagram Fluide Ovviamente bisogna dare Tutti i consensi Vediamo un po' Bla 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 Sotto fluido? Beh Direi di sì Direi di sì Prova Instagram superata E poi vi faccio vedere Perché prima l'ho smanettato Un secondo Come la grandangolare sia veramente molto grandangolare Guardate Questa è la scatola dell'M20 normale E questa è la grandangolare Secondo me Almeno 120 gradi Poi c'è lo sblocco con il volto Oltre che con l'impronta È una simpatica animazione grafica Guardate qua Intorno all'occhietto Cosa succede se non vi riconosce Se vi mette davanti Mi ha riconosciuto E si è sbloccato velocemente Bella questa animazione Ma soprattutto Mi convince E mi intriga La batteria da 5000 mAh E grazie a questa E alla grandangolare Lui è il candidato Che mi porterò in Finlandia Devo andare a provare Una macchina elettrica Tesla Model 3 E allora Me lo porto dietro A meno 15 Riuscirà a fare I due giorni di viaggio Senza Che io lo debba ricaricare È una sfida Aperta Lo scopriremo presto Ciao